ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario secret concentrate informazioni commerciali titolare chi fa srl concessionario chi fa srl confezioni secret concentrate secchiello 1,7 kg secret concentrate secchiello 5 kg formulazione 1 kg uguale lisina 10.000 mg metionino 16.000 mg biotina vit h 441 mg acidi grassi omega 3 6.000 mg acidi grassi omega 6 1500 mg rame 564 mg zinco 1693 mg calcio 22.000 mg fosforo 5.000 mg indicazioni nella pratica quotidiana di fondamentale importanza prestare attenzione alla crescita e allo stato di salute dello zoccolo del cavallo perché a copyright la qualità e la resistenza dello zoccolo stesso dipendono strettamente dall'alimentazione somministrata al cavallo per mantenere lo zoccolo sempre in perfette condizioni a fondamentale integrare la dieta con un prodotto specifico come orsi oers secret concentrate la sua speciale formulazione contiene biotina zinco e amminoacidi che contribuiscono alla formulazione di cheratina coltura di lievito e gli acidi grassi in saturi omega 3 omega 6 tale esclusiva combinazione lavora per via sistemica per prevenire spaccature degli zoccoli e per rinforzare le pareti dello zoccolo posologia un misurino incluso nella confezione contiene circa 30 g di prodotto somministrare 60 g al giorno come dose terapeutica e 30 g al giorno come dose di mantenimento il dosaggio ha basato su un cavallo di circa 500 kg adeguare la quantità in relazione al peso del soggetto fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato ciao 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 ciao